amici buonasera ricordate quei due puro sangue vincenti in tutte le piste del mondo il famoso ribo e quello francese il campionissimo varenne finita la loro carriera furono utilizzati come stalloni cioè alla riproduzione in poche parole montavano le puledre e venivano pure pagati a differenza del nostro stallone di arcole il quale monta le puttane però deve anche pagarle le puttane e chi gli porta le puttane ora parliamo di cose serie questa è la raccolta di stamani mattina anzi è una parte perché una parte di in più sono tutti gli amici glielo data un altro chilo chilo e mezzo più o meno è fortuna questi funghi sono stati raccolti in tre posti tre posti soltanto per cui tutto il resto della del bosco non abbiamo trovato un tubo niente ve le faccio vedere pochettino più da vicino sono tutti edulis settembrini ho trovato anche alcuni funghi mori le brise ma qui non ci sono auguri